Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Me comi una salcipapa, ai che cosa è tan saurosa, e me chiedo in la garganta. Grazie a tutti.